Due ragazzi, un coach, tutti barlettani e tanta voglia di stupire sul palcoscenico internazionale. Continua l'intensa attività oltre ai nostri confini della Fit Sport Italia impegnata nel weekend all'open di Bosnia di Taekwondo e TF. La competizione andrà in scena sabato e domenica a Zvornik, città bosniaca del nord-est, ai confini con la Serbia. A rappresentare gli azzurri nell'occasione saranno Giuseppe Caffagna, cintura nella terzo Dan, reduce dalla recente esperienza agli europei di Tallinn in Estonia e Francesco Pio Tedeschi. I due atleti della Federico II di Svevia Barletta saranno accompagnati in questa trasferta dal Master Ruggero la notte e proveranno a salire sul podio in una competizione che vedrà in astre di partenza molti dei migliori atleti del vecchio continente. La fiducia di certo non manca. Siamo pronti per la partenza di questo grande campionato internazionale che si terrà in Mosnesia e Gomina questo weekend. Abbiamo due atleti in campo, Giuseppe Caffagna e Francesco Tedeschi. Giuseppe Caffagna è un nostro atleta senior che di recente ha partecipato ai campionati europei in Estonia e Francesco Tedeschi è un atleta junior che si sta cannellando per partecipare ai campionati mondiali che si terranno in Bielorussia. Facciamo un grosso in bocca al lupo a questi ragazzi sperando di puntare alla medaglia più alta e quindi di conquistare un bell'oro e tornare a casa con un grande successo. L'ultimo mese della sessione primaverile e la sezione estiva intanto saranno ricche di appuntamenti di prestigio per la Fit Sport Italia. Uno dei più importanti andrà in scena proprio a Barletta per la precisione al pala di sfida Mario Borgia dal 2 al 3 giugno. Ovvio il riferimento all'International Challenge Taekwondo ETF che prevede la presenza anche di numerosi ospiti stranieri. In scaletta nel prossimo mese anche l'Open di Romania dal 15 al 17 e l'Open di Grecia il 30 giugno tra gli eventi di spicco del 2018 agonistico. Infine c'è spazio certamente per i mondiali junior e veteran di Taekwondo ETF in programma a Minsk capitale della Bielorussia dal 19 al 27 agosto.